Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo, dalle 21 di questa sera e sino alle ore 6 di domani mattina, per lavori di manutenzione, troverete la carreggiata ridotta tra gli svincoli con Tursi e Campania verso Salerno. Dalle 22 di stasera, invece, sino alle ore 6 di domani mattina, sul train Napoli-Salerno, troverete chiuso al traffico il tratto compreso tra Cava dei Tirreni e Salerno Centro, in tutti e due i sensi di percorrenza. Per consentire il deflusso del traffico durante il fine settimana dell'Immacolata, l'8 e il 9 dicembre, sulla statale 145 Sorrentina, invece, sino alle 21.30 di domenica 9 dicembre, sono sospesi i lavori sul viadotto San Marco. Per questo motivo l'arteria sarà interamente percorribile in tutte e due le direzioni. Infine, sulla statale 7 bis di terra di lavoro vi informo che, sino alle ore 7 del 24 dicembre, troverete il restringimento di carreggiata tra Mugnano del Cardinale e Monteforte Erpino, in tutti e due i sensi di percorrenza. Qui i lavori vengono effettuati in tratti saltuari e durante il periodo di esecuzione è vietato il transito agli autoarticolati di peso complessivo superiore alle 44 tonnellate. È tutto, mi fermo qui dalla redazione Muoversi in Campania, un saluto da Gigi Gallo. Servizio o cure di Acamir e Regione Campania